La questione invece dei terremotati è una questione che comunque è da tenere in considerazione alla luce del fatto che giustamente in questo momento sta per iniziare la stagione turistica e di conseguenza gli albergatori hanno bisogno di quelle stanze per poter sopravvivere anche loro perché devono comunque fare business. Bisogna dare delle risposte velocemente, bisogna dare delle risposte. Io qua non voglio fare la solita polemica, da solito leghista, però faccio una considerazione. Lo Stato spende i soldi per i migranti, deve trovare i soldi perché comunque lo Stato paga per i terremotati, per far ospitare i terremotati negli alberghi e quindi lo Stato non può non trovare i soldi e non trovare delle soluzioni ma velocemente per cittadini italiani perché se no a quel punto si creerà veramente lo scontro. Io voglio evitare che si scontri, quindi lo dico adesso, lo dico in anticipo, per favore troviamo una soluzione, noi siamo disponibili a ragionare.